Fra Eppi Radio sono Chiara Nicoletti dalla quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma sono con Giampaolo Morelli tra i protagonisti di Maledetta Primavera di Elisa Moruso Prima di venire qua una collega mi ha detto ma c'è sempre Giampaolo ma quanti progetti ha? Ah hai rotto un po' la pochetta In questo senso però in questo caso specifico Elisa Moruso ti ha affidato un personaggio che pur essendoci poco ha il dovere di farci capire il background della crescita potenziale crescita della protagonista da dove viene e dove potrebbe stare andando quindi è una grande responsabilità non so se l'hai percepita così Certo assolutamente io credo che ogni famiglia a modo suo è un po' disfunzionale chi più chi meno chi diversamente disfunzionale però insomma non esiste la famiglia del mulino bianco perfetta anche ringraziando Dio che sarebbe di una tristezza infinita ed è chiaro che i genitori sono fondamentali nell'educazione e nella crescita di un individuo e ritengo che l'adolescenza anzi sia il momento, la pre-adolescenza, l'adolescenza siano i momenti più delicati dell'esistenza sono i momenti in cui si gioca la partita e si vede tu chi sarai, chi diventerai più o meno poi magari delle cose le puoi aggiustare però il grosso di quello che sarai avviene lì e quindi ho sempre visto l'adolescenza come un'età molto delicata e anche molto faticosa che apparentemente non devi fare niente perché non hai incombenze giornaliere di mandare avanti la famiglia come ce l'hanno gli adulti, il lavoro, le cose mai delle difficoltà enormi da superare soprattutto con te stesso inizi a mettere a fuoco te stesso, a capire chi sei, il confronto con gli altri quindi è un'età delicatissima dove i genitori giocano una partita fondamentale, importantissima Quanto può connettersi un attore che è anche il genitore con un ruolo del genere? Credi che in passato da non papà l'avresti affrontato ugualmente così? Ma non te lo so dire che non ho la prova del nove l'avrei fatto sicuramente forse in maniera diversa l'essere genitore ti apre inevitabilmente dentro delle porte che poi non si chiudono più sai che cosa vuol dire amare in maniera incondizionata amare e dover dire di no amare e doverti arrabbiare o anche perdere la pazienza e poi dispiacerti e poi il lavoro del genitore è continuamente in evoluzione cambia di mese in mese, di anno in anno all'inizio quando i bimbi sono piccolissimi si tratta di avere grande pazienza poi invece subentra il carattere, il rapporto quindi è molto difficile e sicuramente l'essere genitore mi ha inevitabilmente aiutato questo papà di Maledetta Primavera Elisa nelle note di regia lo definisce anche un po' giullare tu come lo definiresti? è sicuramente giullare, è disordinato ha un suo lato oscuro come tutti noi ha un tratti inafferrabile ha bisogno della sua libertà, dei suoi spazi anche delle sue manie del suo dover comprare, vendere, fare l'affare ma non per questo è un uomo che non sa amare lo vedo un uomo molto tenero, molto dolce anche fragile e pieno d'amore pieno d'amore per la sua famiglia, per i suoi figli e per la sua moglie e io ringrazio Gian Paolo Morelli tra i protagonisti di Maledetta Primavera di Elisa Moruso alla Festa del Cinema di Roma ed io sono Chiara Nicoletti per Fred, da Festival Insider